Esistono alcune domande fondamentali nella vita, quelle che proprio ti inchiodano al muro e ti costringono a darti delle risposte. Forse la più rilevante, quella che ci poniamo tutti sempre, è Dio esiste. Beh, io mi sono dato una risposta a questo. La mia idea è che sì, Dio esiste, è una donna di colore ed esattamente Eretta Franklin. Lo so, la voce di Eretta è stata una voce straordinaria, ma ci sono state altre grandissime voci. Ma perché? Perché proprio Eretta? Perché insomma bisogna avere un'idea consolatoria anche della vita. Quindi immaginare di arrivare lassù quando sarà il più tardi possibile e trovare qualcuno che ti accolga con quella voce, magari cantandoti una canzone come I Say A Little Prayer di Bacharach, dicendoti che prega tutti i giorni per te, che pensa a te e che lo ha fatto per tutta la tua vita, beh, potrebbe essere qualcosa di consolatorio. Soprattutto se è fatto da quella donna, con quel carattere e con quella voce. Questo è quello che io definisco un momento Eretta. Secondo me tutti nella vita prima o poi abbiamo il nostro momento Eretta. Momento Eretta Franklin, in cui tutti abbiamo una percezione delle sue canzoni, l'abbiamo già sentita, magari non l'abbiamo amata in maniera da vota come sottoscritto. Però ci imbattiamo in qualcosa, in un momento in cui il momento Eretta ci si butta addosso, diventa parte di noi. Ed è capitato più o meno a tutti. Io faccio sempre questa domanda alla gente che incontro. Quanto è stato il tuo momento Eretta? Per moltissimi è stato con i Blues Brothers, quando lei canta a Fink in una cucina e esce fuori alla ribalta con la sua prepotenza vocale, ma anche con la sua prepotenza femminile, di donna che si riprende i suoi diritti. E questo sarà un tema fondamentale della canzone di cui parleremo oggi. Peralti sono ricordi personali, per esempio I Say Little Prayer era la canzone che introduceva i collegamenti notturni con le Olimpiadi di Città del Messico nella televisione italiana nel 1968. Per me, per esempio, come ho già detto prima, è quando interpreta I Say Little Prayer di Bart Bachrach, che ritroviamo molto spesso, ed è capitato per esempio nel matrimonio del mio migliore amico, un'adorabile commedia in cui a un certo punto tutti la cantano e per sbloccare un momento Rupert Eretta sblocca un momento di impasse. E tutti la cantano, tutti sono allegri e tutto è perfetto. E quindi perché tutto sia perfetto ci vuole qualcosa in più, non è soltanto la grande capacità di una canzone, ma è la grande capacità di una canzone che passa dalla voce, dalla presenza fisica, dal carattere, dalla grinta e della estrema dignità di Eretta Franklin. Eretta Franklin, secondo la migliore tradizione, è figlia di un predicatore battista, ma una superstar del genere, cioè un predicatore che vantava una sequela di 4.500 fedeli. Quindi non uno scherzo. La madre di Eretta Franklin la abbandona molto spesso, anche lei era una cantante di gospel, la abbandona prestissimo, scusate, e lascia Eretta da sola quando lei ha sei anni, con le sorelle Erma e Caroline. Però loro stanno col padre, lo seguono, vanno in chiesa. Eretta addirittura suona il pianoforte durante le prediche del padre, durante le cerimonie liturgiche. E questa è la grande palestra di moltissima musica, soprattutto black. Si parte dalla chiesa, si parte dai gospel, si parte dai campi, dai canti, anche dai campi, ma quella tradizione, soprattutto blues. E da lì ci si sposta, e ci si sposta verso il pop, verso un'elaborazione melodica che molto spesso sposta nei territori soul, rhythm e blues. Eretta fin dall'inizio dimostra uno straordinario talento canoro, anche superiore a quello delle due sorelle, e anche un grande talento al pianoforte. Quindi, fin dall'inizio, nonostante la sua vita non sia così semplice, perché avrà due figli, addirittura uno quando aveva 12 anni e uno 14, ma non demorde mai, continua a immaginare che la sua vita, la sua carriera potrebbe essere una carriera solida in quel mondo che però, fin dall'inizio, vede dominato dai maschi. Il mondo del music business, sia per quanto riguarda i protagonisti, per quanto riguarda chi tiene le file della faccenda, è un mondo prettamente maschile. Maretta non demorde. Le sue prime registrazioni, incredibilmente, sono proprio le registrazioni delle liturgie del padre, e lei semplicemente mischia la sua voce, insieme a quella delle due sorelle, quella del coro, e suona il pianoforte. Da qui in poi, la sua carriera è una carriera che prende subito il volo. Lei, giovanissima, diventa immediatamente una delle voci del panorama black, e arriva fino a un certo punto, che è tra quello in cui darà una svolta non soltanto alla sua carriera, ma una delle canzoni più importanti, secondo me, della storia della musica, che è Respect. Però, attenzione, Respect non è una canzone scritta da Rita Franklin, ma è una canzone scritta da Otis Redding, un'altra grande e straordinaria voce del mondo black e soul. Otis Redding che va già inciso a grandi album, tra cui lo straordinario Otis Blue, una delle più belle raccolte sia di ballate, Ritmo in Blues e Soul, che consiglio a chiunque di voi. Otis Redding, anche lui, come ai miei tanti, nella storia del pop di quegli anni, ha una vita segnata da una tragedia, perché il 10 dicembre 1967, in una domenica estremamente nebbiosa, il bimotore che aveva affittato, per rendere più semplici gli spostamenti estremamente duri che in quegli anni toccavano i musicisti che giravano per tutta l'America, suonando quasi tutte le sere in posti, non sempre così vicini uno dall'altro, per cause mai chiarite, si inabisse e si schianta. Sopravvive solo uno degli sfortunati passeggeri di quell'aereo, ed è uno dei suoi musicisti, Ben Coley dei Bear Keys, che è una straordinaria band che ha supportato non soltanto Otis Redding, con i propri fiati e una macchina del ritmo che accompagnava gli artisti migliori in quegli anni. Ben Coley era addormentato in quel momento, a un certo punto sente un trambusto, si sveglia, fa appena in tempo a vedere uno della sua band dire oh no, si stacca la cintura e questo è il gesto che lo salva, perché si troverà poi poco dopo a riprendere conoscenza nelle acque gelite del lago dove l'aereo che portava Otis Redding si inabisse. E questo sarà un'altra grandissima perdita del pop, ricordiamo già The Day the Music Dive, cioè il giorno in cui l'aereo con Buddy Holly si schiantò. E però Otis Redding rimarrà nella storia della musica, ma soprattutto rimarrà nella storia della musica la canzone che aveva inciso tre giorni prima di questo tragico evento, cioè Sitting on the Dock of the Bay, che sarebbe stata anche una svolta nella sua carriera, se vogliamo più pop, più rilassata, più morbida, non così funky e dura come molte delle sue canzoni. Tra queste canzoni, soprattutto Respect. Respect è una canzone appunto sostenuta nel ritmo, fancheggiante, un ritmo abuso estremamente duro, corposo, ma ciò che ci interessa di questa canzone è il testo. Il testo è un testo estremamente misogino, molto anni 50 e 60, visto da una prospettiva prettamente maschile. E cosa ci racconta questa canzone? La canzone racconta di un uomo che chiede soltanto rispetto, ma in che modo? In un modo molto maschile, cioè la sostanza è questa. Il protagonista dice, lavoro tutto il giorno, anzi, lavoro tutta la settimana, tutto ciò che chiedo, quando arrivo a casa, di sedermi, avere una cena e avere un po' di rispetto dalla mia donna. Dice addirittura il protagonista, non mi interessa dei soldi, sono io che porto i soldi a casa, non mi interessa di quello, non mi interessa nemmeno, piccola, che tu mi faccia del male, sottintendendo che durante la sua assenza quasi lui non è interessato nemmeno a ciò che potrebbe accadere tra le mura di casa, ma quello che gli interessa è il rispetto, cioè il rispetto di una donna che faccia quello che si crede che una donna debba fare, i compiti di casa e rispettare il proprio uomo. Ora, nell'America degli anni 50, ma soprattutto 60, qua siamo nella metà degli anni 60, non sembrava così strano. Se lo confrontiamo con alcune liriche anche di canzoni degli anni 70 italiani, inconsapevoli e anni diversi, quest'ottica non è cambiata. E' sempre l'uomo, pensiamo ad alcuni testi di Mogol, tipo, donna tu sei mia e quando dico mia dico che non vai più via, è meglio che rimani qui a fare l'amore insieme a me. Pensandole oggi, temi piuttosto, insomma, inaccettabili. Però, ripeto, rispetto è la visione di un uomo misogino che guarda semplicemente e dice io faccio tutto quello che devo fare, quindi rispetto. Però che cosa succede? Succede che Aretha Franklin sente questa canzone e comincia a pensare a qualcosa, cioè comincia a pensare che questo è un punto di vista che non può condividere, che la canzone sì è grandiosa, ma forse ribaltandola e guardandola dalla prospettiva femminile potrebbe essere ancora una canzone più potente. Perché Aretha, quella ragazza che cantava in chiesa su non va al pianoforte, nel frattempo, con la sua musica già riconosciuta come grande, si era già spesa per i movimenti civili, anzi era andata in tour a supporto di Martin Luther King. E questa è una sua dichiarazione dell'epoca a riguardo proprio di quel tour e di Martin Luther King. Aretha Franklin dice, non credo che nessuno sapesse quanto sarebbe stato significativo nella storia, la storia con la S maiuscola, ma tutti sapevano cosa stava cercando di fare e sicuramente stava cercando di ottenere la parità di diritti per gli afroamericani e le minoranze. Questa è una dichiarazione che Aretha Franklin fece nel 2013 alla rivista Emony a riguardo appunto di Martin Luther King. Lei volle subito unirsi, ma era estremamente giovane, così chiese il permesso al padre. Il padre glielo concesse e lei si mise in giro per il tour per gli Stati Uniti con Martin Luther King, appunto che si spendeva per i diritti degli afroamericani, e insieme c'erano Harry Belafonte e anche un giovane Jesse Jackson. E lei disse ancora, ho sempre avuto una grande ammerizione per Martin Luther King, per il suo senso del decoro e per la giustizia che voleva. Era un gran bravo uomo. Quindi, lei va in giro. Questi sono gli anni in cui i diritti civili cominciano a essere preponderanti. E Aretha decide di fare la sua cosa e farla in un modo che è estremamente rilevante. Anzi, molto spesso le cose più rilevanti avvengono nei risvolti del pop, delle piccole cose dell'arte, non soltanto con grandi reclami o con gran voce, ma quando tu riesci con l'arte a ribaltare qualcosa che nessuno si aspettava. E quindi che cosa fa? Aretha Franklin prende Respect di Otis Redding e la rivolta. Quel punto di vista maschile diventa il punto di vista femminile. E il rispetto che chiedeva a quel padrone di casa che tornava appunto stancho, voleva rispetto, non voleva essere disturbato, diventa il punto di vista di una donna che vuole rispetto, che chiede rispetto al proprio uomo e che chiede rispetto a quel mondo che fino a quel momento probabilmente le donne aveva ignorato. E lo fa in un modo che è estremamente artistico, cioè prende la canzone, la rivolta, le incide. E decide di inciderla forse in un momento, in un giorno emblematico, cioè San Valentino, il 14 febbraio, entra, regista questa canzone e si porta alle sorelle. Le sorelle, Erma e Franklin, che erano già state sempre al suo fianco anche durante quelle cerimonie religiose di cui abbiamo parlato all'inizio. E quindi introduce dei cambiamenti. Come abbiamo detto, la prospettiva non è più di chi torna a casa, ma è la prospettiva femminile di chi è in casa e chiede al proprio uomo, chiede al mondo a grandissima voce rispetto. E questa è una dichiarazione interessante di Erta Franklin, perché ci introduce alcune piccole varianti, che non sono soltanto la prospettiva maschile virata al femminile, ma anche alcuni piccoli tocchi verbali che rendono la canzone interessante. Sentite questa. Erta Franklin dice Beh, ho sentito la versione del signor Otis Redding, mi è piaciuta moltissimo e ho deciso che volevo registrarla. Mia sorella Caroline e io ci siamo messi insieme, ci siamo seduti di fianco. All'epoca io, Erta Franklin, vivevo in un piccolo appartamento nel West Side di Detroit. Avevo il pianoforte vicino alla finestra. Ci siamo messi lì, abbiamo guardato le macchine che passavano e siamo arrivati a quella famigerata frase, alla frase «Suck it to me». Ecco, «Suck it to me», che è una via di mezzo fra calza per me, va bene per me, ma anche un sottotesto vagamente sessuale, diventa poi un'espressione gergale classica. Cioè viene adoperata, e soprattutto viene adoperata dalla parte femminile, che molto spesso non, come dire, era legata a un angolo e sicuramente non aveva la possibilità di rivolgersi come uno slang o dire qualcosa che somigliasse appunto a «Suck it to me» e che mettesse a posto tutti quanti. Sempre a riguardo di questo, appunto il fatto che questa frase divenne famosa, Erta Franklin dice ancora questo. «All'epoca era diventato un cliché, qualcosa come la battuta del giorno, e allora mi sono sorpresa sentire molte ragazze che lo dicevano ai compagni, «Suck it to me», «Suck it to me», ed è stato sorprendente. In realtà, secondo me, non aveva nulla di sessuale. Non era sessuale, era solo una flat, uno slang, solo che da lì si è semplicemente perpetuato e da lì è andato avanti. E se ci pensate, è qualcosa che anticipa, dal ritmo all'area hip-hop, rap, a queste frasi, questo slang che diventa poi reiterato e tipico. Ecco, quei giorni lì della registrazione, il giorno di San Valentino diventa un giorno incredibile e Tom Dowd, che è uno degli ingegneri del suono, dice che rimase letteralmente sbalordito quando sentì Erta e le sue sorelle con quel coro «Suck it to me», e lui dice semplicemente «Sono caduto dalla sedia quando l'ho sentito, però ho pensato che sarebbe stato fantastico». Quindi, lui, sempre un'altra dichiarazione, pensate a questo studio caldissimo, super hot, con queste donne che vanno e vengono dalle registrazioni e capiscono che stanno facendo la storia, stanno facendo la loro storia, la storia di un punto di vista femminile, torno a ribadirlo, che all'epoca non era assolutamente così scontato. Ecco, l'ingegnere del suono che è presente nella registrazione, Arif Mardin, dice «Sono stati molti studi nella mia vita, ma non c'è mai stato un giorno così. Era come un festival. Tutto, letteralmente tutto, ha funzionato alla perfezione». E poi c'è ancora David Ritz, che è un giornalista del Washington Post, che ha scritto una bellissima biografia di Rita Franklin, che si chiama, appunto, Respect the Life of Rita Franklin, che racconta della canzone e dice «Ha decostruito e ricostruito la canzone. Ha preso un groove nuovo e l'ha data una canzone che prima non aveva quella di Otis Redding, ma la canzone ha assunto un'universalità che l'originale non aveva mai avuto. Penso che sia merito del genio di Rita Franklin, il fatto che sia stato in grado di riuscire a fare così tanto come una canzone di qualcun altro. La sua versione è così profonda e così piena di angoscia, determinazione e tenacia, e tutte queste emozioni, apparentemente contraddittorie, arrivano a un finale eccezionale. È per questo motivo che la canzone è diventata un inno. E quindi sì, la canzone diventa un inno immediatamente, un successo. È un inno sia per la parte femminile soffocata da cliché maschili nella vorma, nella vita di tutti i giorni, ma diventa un inno anche per la richiesta di parità dei diritti. Questi sono gli anni del Vietnam, delle Pantere Nere, per quei diritti che Aretha Franklin aveva subito supportato quando giovanissima era andata in tour con Martin Luther King, quando registra rispetto Aretha Franklin a 24 anni, pensateci. E poi c'è un'altra finezza stilistica. A un certo punto Aretha Franklin inserisce all'interno della canzone questo TCB, cioè Take Care of Business. Sentite anche questa. TCB è un'abbreviazione comunemente usata negli anni 60 e 70, che significa prendersi cura degli affari. È un gergo afroamericano per compiacere il proprio partner. TBC in e Flash, in seguito peraltro, divenne il motto e la firma di Elvis Presley, uno che aveva sempre saputo mettere l'occhio e capire certe intuizioni del mondo afroamericano. E poi, pensate a Aretha Franklin, nel Respect, che era detto velocemente nella versione di Otis Redding, qui lo fa quasi spelling. Ogni lettera è detta con una pausa, a sottolineare proprio il fatto che questo è ciò che loro vogliono, rispetto. Tutto questo manca nella versione originale di Otis Redding, ma Otis Redding stesso poi la inserirà nelle sue esibizioni. Questo TCB diventa un altro piccolo, come dire, momento chiave che rende la canzone universale per il Socket to Me e per il TCB. Otis Redding, già, Otis Redding, però che cosa pensa della sua canzone? Perché in fondo gli viene letteralmente scippata e rivoltata come un calzino, quello appunto di Socket to Me. E lui dice una cosa che dimostra quanto fosse grande. L'ascolta per la prima volta e quindi parla con Jerry Wexler, l'altro grande che ha seguito l'registrazione, l'altro grande del mondo della musica di quegli anni e dice, riferendosi ad Aretha Franklin, quella ragazza mi ha portato via quella canzone, quella canzone non è più mia, d'ora in poi quella canzone appartiene a lei. Che è un grande gesto, è un grande gesto di, come dire, di uno che capisce perfettamente quanto Aretha Franklin sia stato in grado di appropriarsi di quella canzone e renderla letteralmente un'altra cosa. Ora, a questo punto tutto esplode, tutti parlano di Aretha Franklin, tutti parlano di rispetto e vengono comunque, le si muovono le prime accuse. Qualcuno della parte più conservatoria dice, ma in fondo non è un po' troppo, come dire, audace per il femminismo. E Aretha dice, audace? Perché mai dovrebbe essere? Tutti abbiamo bisogno di rispetto, non soltanto le donne, ma forse le donne ne hanno bisogno più di altre. E quindi questo è un piccolo big bang nel mondo musicale. Per esempio, Diana Ross and the Supremes e Temptation vengono invitati a uno show televisivo che si chiama appunto TCB, Taking Care of Business. E Diana Ross è un'altra figura fondamentale per il superamento dei confini razziali e per l'affermazione delle donne nel mondo del business musicale. Ricordiamo che Diana Ross è la donna che, quando venne invitata di fronte alla famiglia reale per un'esibizione live ripresa dalla televisione, interruppe il rituale strettissimo con il quale ci si può rivolgere alla famiglia reale, alla regina e ai suoi parenti, bloccò la canzone e disse, questa è una delle poche occasioni in cui una ragazza come me, che viene dagli Stati Uniti, dove alle ragazze afroamericane non è consentito di parlare, che può prendere la parola e quindi chiedo anch'essa chiese rispetto per se stessa, per le donne e per gli afroamericani, creando un momento di imbarazzo totale, rotto dal fatto che fu proprio la famiglia reale britannica a sostenerla e applaudire per prima. Ecco, in questo spettacolo televisivo TCB vengono messe insieme Diana Ross in the Supremes e i Temptation, cioè gruppo maschile e femminile più famosi dell'epoca dell'area Motown, Black, ma non soltanto. E loro che cosa fanno? Scelgono di fare come canzone centrale di questa esibizione, proprio Respect, nella versione di Rita Franklin, ma con un scambiarsi le rispettive visioni da parte appunto della parte maschile dei Temptation e quella femminile delle Supremes. E questo che cosa significa? Significa che aveva superato, che la canzone aveva funzionato, che i confini razziali cominciavano, grazie al cielo, a sfaldarsi, che il rispetto per le donne cominciava a essere visto come qualcosa di differente, qualcosa che era necessario, ma che soprattutto veniva, il cui motore era incredibilmente una canzone. E questo è lo straordinario potere, la straordinaria forza del mondo del pop, soprattutto di quegli anni in cui tutto andava ancora costruito. E soprattutto la grandissima intuizione di Rita Franklin, del suo orgoglio. Qualcuno disse, mosse delle critiche alla canzone dicendo che forse era il punto di vista di una donna che si sentiva, come dire, bistrattata e tutto. E chi conosceva Rita Franklin disse no, non è vero. Il secondo nome di Rita Franklin era proprio Respect. Lei non si sarebbe mai fatta bistrattare, ma proprio per questo voleva che quel rispetto fosse universale. E la grandissima Rita se n'è andata il 16 agosto del 2018. Cancro l'ha portata via. È stata omaggiata da tutti, da ex presidenti, da tutta la comunità musicale, da chiunque. E nell'andarsi in questo modo così regale, lo testimonio alle immagini che abbiamo avute, cioè il suo corteo funebre è stato ricco di Cadillacrosa, che è una citazione anche di una grande canzone sua, forse un altro dei grandi momenti di Rita Franklin. Rosi e rossi dappertutto, un vertiginoso abito rosso con delle scarpe coi tacchi abbinate. Un modo di classe, un modo di una grandissima donna, forse l'ultimo grande momento a Rita che ha donato a tutti noi. Una grandissima donna, una grandissima interprete, una grandissima canzone. Tutto ciò non può che richiamare semplicemente Respect da parte di tutti. Grazie a tutti.